Quando Kenneth Levine presentò Bioshock lasciò tutti a bocca aperta. In precedenza aveva comunque già lasciato un'impronta indelebile con System Shock. In questo video parleremo della sua genialità, del suo presunto caratteraccio e della mania di perfezione che l'ha portato a creare capolavori immortali. Siete pronti per un viaggio nella vita del creatore di Bioshock? Allacciate le cinture e iscrivetevi al canale per supportarci! Vi presentiamo Legends, la rubrica che si propone di celebrare i grandi autori del panorama videoludico. La storia di Kenneth Levine, da qui in avanti Ken Levine, inizia il primo settembre del 1966 con la sua nascita a Flushing, uno dei quartieri di New York. È l'unico bambino ebreo della sua classe, è un grande appassionato di storie e indiscutibilmente un nerd. Adora il film La fuga di Logan e ama i fumetti, legge spesso Spider-Man durante gli intervalli scolastici, ha inoltre una cotta giovanile per il personaggio Scarlet. Come racconterà anni dopo, la sua infanzia fu abbastanza solitaria, perché negli anni 70 una passione viscerale per i comics era qualcosa che i bambini un po' più grandicelli consideravano da sfigati. Ama la fantascienza, sia Star Wars sia Star Trek, senza dimenticare Battlestar Galactica, ma, a dispetto di quel che si potrebbe pensare, non è un grande lettore di romanzi sci-fi. Qualcosa di simile avviene sul versante fantasy? Si innamora fin da subito di Dungeons & Dragons, ma non ama particolarmente i romanzi fantastici. Le sue passioni non lo rendono molto popolare tra i ragazzini più cool della sua scuola, ma almeno tra le mura domestiche non incontra resistenze. I suoi genitori anzi supportano il suo amore per i fumetti, vedono positivamente le sue partite a Dungeons & Dragons e gli regalano un Atari 2600. Oggi non è un dato particolarmente straordinario, ma non è scontato per il periodo. In quegli anni, infatti, gli Stati Uniti erano attraversati da una forte ondata di panico morale nei confronti di numerosi media, tra cui i videogiochi. Dungeons & Dragons, in particolare, fu al centro di numerose accuse di satanismo. Non bisogna quindi sottovalutare il fatto che i suoi genitori considerassero addirittura positivamente le partite a questo gioco di ruolo. Oltre a Dungeons & Dragons, in gioventù ha anche modo di dedicarsi ad altri giochi, come i wargames della Avalon Hill, di cui ricorda Lutwaffe e Panzer Blitz. Col suo Atari 2600, invece, gioca molto ad Adventure di Warren Robinet, e anni dopo ricorderà questo videogioco come uno di quelli che lo hanno maggiormente influenzato. La sua avventura, però, è solo agli inizi. Il percorso di Levin è stato per certi versi inaspettato, ma si può dire che lo abbia infine portato a mettere a frutto quanto aveva studiato, seppure in un settore diverso rispetto a quello che, molto probabilmente, si era aspettato. La sua passione per la narrazione e la creazione di storie, infatti, avrà modo di emergere nel suo futuro lavoro con i videogiochi. Sin da giovanissimo, nella periferia new yorkese, aveva dimostrato una predisposizione e un viscerale amore per le storie e la loro messa in scena. Supportato dai genitori, si iscrisse al Vassar College, celebre scuola di New York che, nel corso degli anni, ha forgiato diverse celebrità dello spettacolo statunitense, al corso di laurea di drammaturgia. Già nel suo periodo al Vassar, comunque, Levin ha a che fare anche con il medium videoludico. Come ha riportato lui stesso in un'intervista, infatti, negli anni in cui si trovava al college c'erano diversi videogiochi negli spazi del campus, tra i quali i Commando e i Cari Warriors. Nella stessa intervista, Levin segnala di aver giocato anche a diversi videogiochi sul suo Apple Macintosh, tra cui il platform Dark Castle. I videogiochi, insomma, sono presenti nella vita del giovane Levin, ma per il momento solo come svago e passatempo. Le sue ambizioni lavorative, infatti, sono indirizzate altrove. Questi anni si riveleranno comunque fondamentali per la sua formazione. La scrittura di sceneggiature e opere teatrali, le partite ai videogiochi, il suo lavoretto al campus per i servizi informatici. Al termine del college, nulla sembra lasciar presagire che nel suo futuro lavorativo ci saranno i videogiochi. Per il momento, infatti, questi ultimi sembrano solo un passatempo che lo distoglie dalle cose serie della vita. Proprio dopo il college, per esempio, Levin fu lasciato dalla sua fidanzata perché passava troppo tempo giocando a The Legend of Zelda durante l'estate. Zelda, a parte, si trasferisce a Los Angeles con l'intenzione di diventare uno sceneggiatore cinematografico, e inizialmente le cose sembrano andare al meglio. Scrive una commedia, trova un agente che crede in lui e per un attimo si apre la possibilità di lavorare con Paramount. In breve, però, tutto questo crolla, lasciando il giovane Levin disoccupato e senza nulla tra le mani. Desideroso di trovare al più presto un altro lavoro, si imbatte in un annuncio. I Looking Glass Studios cercano nuove candidature. Si tratta dell'azienda che ha realizzato Ultima Underworld Destision Abyss e System Shock, entrambi molto apprezzati da Levin. E così, nel 1995, inizia quasi per caso l'avventura di Levin nel mondo dello sviluppo videoludico. Pur senza esperienza pregressa nel settore, infatti, Levin viene subito assunto e inizia a lavorare a Tiff The Dark Project. L'esperienza di Levin presso i Looking Glass Studios è caotica, ma molto stimolante, perché qui emergeranno alcuni degli spunti che, qualche anno dopo, costituiranno la base di Bioshock, seppur ripensati, rimasticati e rielaborati. Non solo Tiff, anche System Shock e Ultima Underworld danno un forte legame con Bioshock, sebbene Levin non abbia lavorato a questi progetti. Come detto, però, sono due videogiochi da lui molto apprezzati, e soprattutto System Shock, insieme al suo seguito, sono spesso indicati come dei predecessori spirituali di Bioshock. Come dirà lo stesso Levin qualche anno dopo, lo spirito di System Shock è il gameplay basato sul giocatore, è il lasciare che sia il giocatore a guidare il gioco, non il game designer. Proprio in Bioshock il game designer ha voluto esprimere questo concetto alla massima potenza. Looking Glass e i suoi videogiochi, insomma, sono molto importanti nella formazione di Levin, ma il periodo di lavoro lì dentro non è semplicissimo. L'azienda sta attraversando numerose difficoltà finanziarie, che generano un senso complessivo di instabilità. Tutto ciò si riflette sulla qualità del lavoro, perché se finisce talvolta per navigare a vista senza tempistiche definite e senza una chiara visione di insieme. Tuttavia, nonostante le difficoltà, soprattutto iniziali, Levin riesce a essere rispettato fin da subito ed è ben voluto nell'azienda. Levin trova in particolar modo una guida e un mentor in Doug Church, colonna portante di Looking Glass. Non solo, il suo articolo Formal Abstract Design Tools rimane una lettura di grande interesse ancora oggi, utilizzata come spunto di riflessioni in più occasioni. L'ambiente lavorativo di Looking Glass, però, inizia ben presto a essere un po' troppo stretto per Levin, che nel frattempo ha maturato ambizioni differenti. Siamo nel 1997. Levin ha lavorato per circa due anni a TIFF. Il videogioco è un progetto molto interessante, ma ancora non è concluso. Vedrà infatti la luce solo l'anno successivo, nel 1998. È tempo di una scelta radicale, licenziarsi e mettersi in proprio. Levin abbandona Looking Glass, seguito da due programmatori, Jonathan Shea e Robert Fermier. In questo momento nasce Irrational Games. Si sceglie di realizzare un progetto ambizioso, il seguito di System Shock, che come si è visto era uno dei videogiochi più amati di Levin. In termini di possibili sviluppi narrativi l'idea è molto buona, perché System Shock conteneva numerosi spunti che potevano essere facilmente ampliati e sviluppati. Il progetto però presenta anche diverse sfide e difficoltà. Irrational Games è una realtà piccola, appena nata, per cui non dispone di grandi risorse. Bisogna lavorare in economia, lavorare anche con persone alle prime armi. L'engine da utilizzare è lo stesso di Tiff, ancora da limare. Levin, inoltre, è un vulcano di idee, ne produce a ciclo continuo, il che per certi versi è molto positivo, ma rischia anche di rallentare i lavori, per cui Robert Fermier deve incanalare in maniera produttiva la grande creatività del collega. Per fortuna, almeno il distacco da Looking Glass avviene senza grosse problematiche. Anzi, alcuni ex colleghi finiscono per collaborare in vario modo con Irrational Games. Nonostante le difficoltà, lo sviluppo del videogioco procede e nel 1999 System Shock 2 viene pubblicato. Molti ricordano questo videogioco soprattutto per l'intelligenza artificiale Shodan, spesso considerata, con buone ragioni, uno dei migliori nemici della storia dei videogiochi. L'IA megalomane che finisce per considerarsi una divinità è anche spesso associata a un'altra sua collega videoludica che sarebbe arrivata qualche anno dopo, GLaDOS di Portal. Shodan, già presente nel primo System Shock, torna qui sotto mentite spoglie. Inizialmente infatti appare al protagonista come la dottoressa Janice Polito, che si offre come guida e consiglio fino al momento della rivelazione. È utile sottolineare questo passaggio perché questo, lo smascheramento che porta alla rivelazione, è uno dei numerosi aspetti in cui System Shock 2 anticipa ciò che sarà Bioshock. System Shock 2 è molto apprezzato dalla critica e ottiene anche un buon numero di vendite. Sembra pertanto che Irrational Games abbia superato gli ostacoli e abbia davanti a sé un rosio futuro. Le sfide però sono appena cominciate. I loro altri progetti, infatti, vanno incontro a diverse problematiche. Il loro videogioco Deep Cover, sviluppato insieme a Looking Glass, viene abbandonato nel 2000, con la chiusura di Looking Glass. Anche un altro loro progetto, The Lost, viene cancellato. Questo videogioco, ispirato all'inferno di Dante Alighieri, avrebbe dovuto vedere la luce nel 2002 su PlayStation 2 e Xbox, ma diverse problematiche portarono all'abbandono del progetto. Va detto, come nota aggiuntiva, che The Lost non scomparve del tutto. Qualche anno dopo i diritti del gioco vennero acquisiti da FX Labs, che pubblicò nel 2008, per il mercato indiano, una nuova versione del videogioco, intitolata Agni Queen of Darkness. Fortunatamente un altro loro progetto va in porto. donando un po' di ossigeno ai Rational Games. Nel 2002 viene infatti pubblicato il loro Freedom Force, un videogioco di supereroi fortemente ispirato ai comics statunitensi. Il prodotto piace, e il Rational Games ne sviluppa anche un seguito, Freedom Force vs. The Third Reich. Sono comunque anni di fortune alterne, SWAT 4 vende discretamente bene, ma Tribes Vengeance smette ben presto di ricevere supporto dal publisher, Vivendi, che dopo appena pochi mesi lascia morire la parte multiplayer del gioco. Sta arrivando però la vera svolta nella carriera di Ken Levin. Nel 2006 Irrational Games viene acquisita da 2K, e i suoi due studios cambiano nome in 2K Boston e 2K Australia. Già prima dell'acquisizione, Levin e il suo team stavano lavorando a un grosso progetto, che si scoprirà in seguito a essere Bioshock. In più occasioni Ken Levin dice che questo videogioco avrebbe definito il genere degli sparatutto in prima persona, andando oltre i cliché degli FPS e proponendo un'esperienza che avrebbe rivoluzionato questa tipologia di videogiochi. Alcune affermazioni del tempo, viste col senno di poi, suonano forse eccessive, ma Bioshock ha comunque segnato un'importante spartiacque. Ed è stato soprattutto un videogioco con cui Ken Levin ha potuto esprimere al meglio il suo talento creativo. Bioshock è ricordato per molte cose, dal suo impiego dell'Art Deco a figure iconiche come l'accoppiata Big Daddy e Little Sister. Qui però ci interessa osservare soprattutto quali sono stati alcuni dei più significativi e importanti tocchi narrativi lasciati dal suo ideatore. Come ha detto lo stesso Levin, la sua operazione può essere paragonata alla fattoria degli animali di Orwell, un'allegoria. Ma un'allegoria di cosa esattamente? Dell'oggettivismo. Raptor, l'utopia sottomarina creata da Andrew Ryan, è fortemente ispirata all'oggettivismo della filosofa Ayn Rand, che nelle sue opere sostiene un radicale individualismo, la morale dell'egoismo nazionale, i diritti naturali dell'uomo basati sul diritto di proprietà, il governo limitato. Quella della Rand è una difesa filosofica e morale del capitalismo, inteso come risultato della volontà prometeica dell'uomo. Il lascito più fecondo per la cultura libertaria di cui Rand viene considerata portavoce è stato la sioma di non-aggressione, ovvero la condanna dell'inizio dell'uso della forza, insieme alla riconduzione dei diritti dell'uomo al diritto di proprietà. Il famoso motto No Gods or Kings Only Men, che ci accoglie nel nostro ingresso a Raptor, è una perfetta sintesi del pensiero randiano. Levin ha riadattato il tradizionale modello dell'utopia isolata che, lasciata a se stessa, si trasforma in una distopia, in cui a crollare è il sogno utopico oggettivista, nel momento in cui l'ossessione per l'Adam, una sostanza che dona poteri sovraumani, distrugge il tessuto di quella società in apparenza perfetta. Ken Levin, tuttavia, non ha mai percepito Bioshock semplicemente come una critica all'oggettivismo. Come ha detto infatti in un'intervista, avrebbe potuto essere l'oggettivismo, avrebbe potuto essere qualsiasi cosa. Riguarda cosa succede quando gli ideali incontrano la realtà. Se dovesse riassumere la storia di Bioshock sarebbe tutta qui. Non è un attacco all'oggettivismo, è uno sguardo giusto all'umanità. Noi ronchiamo le cose, siamo molto, molto fallibili. Hai questa bellissima, splendida città. E poi cosa succede quando la realtà incontra l'ideale. L'aspetto visivo della città sottomarina è l'ideale astratto, e l'acqua che entra da tutte le crepe è la realtà che chiede spazio. Secondo una felice definizione, ciò che ha fatto Levin sarebbe piuttosto la possibilità di sperimentare un approccio videoludico al pensiero filosofico. Levin stava creando un corrispettivo della filosofia sotto forma di gioco, ha creato un mondo in cui il giocatore può sperimentare la filosofia di Rand e attraverso Rand il pensiero politico di Ops. È forse questo uno degli aspetti più affascinanti di Bioshock, la sua capacità di creare un discorso etico, civile e politico attraverso il videogioco e i suoi strumenti. La città di Raptor è uno spazio empirico, un territorio in cui mettere alla prova un approccio politico per testarne i limiti. C'è, del resto, una differenza fondamentale rispetto alle teorizzazioni di Ayn Rand. La filosofa descriveva delle città distopiche come risultato di una società che non seguiva l'oggettivismo, mentre Levin mostra una città distopica proprio come risultato delle teorie oggettiviste. Anche la figura di Andrew Ryan, il creatore di Raptor, è piuttosto complessa e articolata. Ricorrendo di nuovo alle dirette parole di Levin, volevo rendere Andrew Ryan un personaggio con cui le persone potessero identificarsi un pochino. È diventato un mostro, ma all'inizio era un ragazzo che desiderava qualcosa, con una passione nella vita. La trama di fondo è di grande interesse, insomma, ma la maestria narrativa di Ken Levin è emersa anche nella sua attenzione per i piccoli dettagli. Ciascun appassionato di Bioshock può probabilmente richiamare alla memoria almeno un momento in cui si è sentito davvero immerso nella Raptor del videogioco, grazie a qualche dettaglio in apparenza marginale. Per esempio, Stéphane Chevelier, nel suo capitolo all'interno del libro Bioshock and Philosophy, ricorda i tanti piccoli dettagli presenti nella festa di fine anno al ristorante. Da questo punto di vista, Bioshock mette in mostra una delle caratteristiche più potenti e comunicative del nostro medium, ovvero quella di farsi ipertesto, permettendo al giocatore di entrare in profondità nel mondo di gioco. L'utente è libero di curiosare negli spazi tridimensionali del gioco, osservandone dettagli infinitesimali e prendendosi tutto il tempo per focalizzarsi quindi sulla narrativa implicita o emergente. È anche utile ricordare il portato simbolico dell'ambiente di gioco. La Raptor di Bioshock appare come una fabbrica e una cattedrale. Una fabbrica per le sue catene produttive e il suo essere una sorta di cantiere potenzialmente sempre espandibile attraverso i suoi moduli da posizionare sui fondali oceanici. Una cattedrale per tutto il bagaglio sacrale che si trascina nei suoi discorsi e nelle sue logiche, e a livello prettamente architettonico, per le sue ampie vetrate, che non si affacciano però sul cielo, ma sull'oscuro fondale oceanico. Tutto ciò si riflette anche nell'organizzazione stessa di alcuni spazi di Raptor, come la sua stazione di benvenuto o il suo museo celebrativo, che raccontano le gesta di questa nuova fede come affreschi nelle chiese, affiancando nei concreti altari i distributori di plasmidi che sono divenuti l'ostia, il pane quotidiano di questo culto. E ancora, un altro aspetto molto interessante e fortemente voluto da Levine è il discorso sull'agency videoludica che si sviluppa in Bioshock. Con agency si intende la possibilità che un individuo ha di agire con indipendenza e di fare scelte significative e dotate di impatto. Il colpo di scena centrale del gioco, in cui si scopre che il protagonista è stato guidato per tutto il tempo attraverso la frase Would You Kindly, che costituiva per lui una sorta di comando vocale inaggirabile, è proprio una riflessione sull'agency nei videogiochi. I protagonisti dei videogiochi, se ci si pensa, sono sempre eterodiretti, ovvero guidati dall'esterno, essendo controllati da una persona oltre lo schermo. Ma, e questa è una cosa un po' più sottile, anche i giocatori stessi finiscono per essere sempre eterodiretti. Per proseguire nel videogioco, devono seguire una serie di incarichi che vengono loro suggeriti, proprio come quel Would You Kindly di Bioshock. Si può, infine, ricordare la dissonanza ludonarrativa generata con Bioshock. Anzi, è proprio con questo videogioco che si è iniziato a discutere di questo concetto, identificato e descritto da Clint Hawking. Secondo il giornalista, in Bioshock si evidenzia un distacco fra la libertà di scelta garantita dalle meccaniche di gioco, che permettono di salvare o sacrificare le sorelline, e l'impossibilità invece di rifiutare la dottrina di Atlas e accettare quella di Ryan. Facciamo un piccolo salto in avanti, saltando Bioshock 2, in cui il coinvolgimento di Levin fu più che marginale, per non dire nullo, e arriviamo a Bioshock Infinite, in cui torna essere creative director e lead writer. E anche in questo videogioco, infatti, l'impronta di Levin è ben evidente. Vengono abbandonate le profondità oceaniche di Raptor, ma viene mantenuta l'idea della società distopica separata dal resto del mondo. Questa volta, però, è la città volante di Columbia ad essere il teatro delle vicende. Bioshock Infinite è un videogioco molto sfaccettato, ricco di stimoli che possono essere colti e isolati in vario modo, dalla religione alla storia alternativa, passando per il libero arbitrio e molto altro ancora. In generale, Bioshock Infinite è sicuramente un gioco che parla della società statunitense. A tal proposito, le interpretazioni sono state moltissime, soprattutto nel tentativo di identificare la componente politica del videogioco. Levin, però, ha dichiarato l'equidistanza e la neutralità del suo videogioco, che non si pone come una critica o un attacco a un determinato pensiero politico. I miei giochi tendono a essere un test di Rorschach per le persone, e ho sentito entrambe le opposte reazioni. Ho avuto il dispiacere di andare in un sito di suprematisti bianchi che ha affermato che questo gioco dell'ebreo Ken Levin riguardava l'uccisione dei bianchi. Ma poi sono andato su un sito di sinistra che diceva che il videogioco voleva screditare i movimenti di sinistra. I miei videogiochi, come ho detto, sono un Rorschach e non voglio creare titoli che esprimono una visione politica o filosofica. Ci sono ancora persone che pensano che il primo Bioshock sia una rivendicazione della filosofia del REND, e alcune persone che dicono che invece l'abbia massacrata. Non sono comunque mancate delle analisi che hanno messo in dubbio tale neutralità, sottolineando per esempio che le meccaniche alla base del videogioco sono allineate a un sistema neoliberale di valori. C'è poi anche chi, sicuramente, ricorderà l'esplicita richiesta rivolta da Levin al fandom di smetterla con le fanart pornografiche sul personaggio Elizabeth di Bioshock Infinite. Una richiesta che non è stata particolarmente ascoltata o esaudita. Erotismo fan made a parte, dopo il successo di Bioshock Infinite inizia un periodo di relativo stallo per Ken Levin. Chiude Irrational Games, la riapre qualche anno dopo con un altro nome, ovvero Ghost Story Games, annuncia diversi progetti e lavori che rimangono però a metà, e interviene alla GDC del 2014 con una curiosa presentazione su una sorta di mattoncini narrativi variamente ricombinabili. Facciamo un balzo al 2022, quando ai The Game Awards viene presentato Judas, una misteriosa avventura in single player che diffonde echi di Bioshock da tutti i pixel e in cui la mano di Levin sembra assolutamente riconoscibile. E chissà che l'autore non riesca nuovamente a mostrarci indimenticabili orizzonti videoludici.